Dai fondi PNRR alla telemedicina passando per tutte le sfide future che la sanità pubblica dovrà affrontare. Ai nastri di partenza la diciottesima edizione del forum Risk Management dal titolo appunto La sfida della sanità pubblica ospitata dall'Arezzo Fiere e Congressi dal 21 al 24 novembre. Ci sarà un confronto tra direzioni strategiche delle aziende sanitarie per vedere laddove voglio dire ci sono le migliori buone esperienze, le migliori buone pratiche perché abbiamo tutti gli interessi di mettere a sistema quello che di meglio è già sorto nel territorio. Quindi mi auguro e spero che il forum darà una spinta voglio dire proprio ad accelerare anche per quanto riguarda il PNRR e tutti i progetti che sono stati presentati alle regioni. Naturalmente l'impegno deve essere anche quello che il governo deve chiarire una volta per tutte il proprio piano di rimodulazione del PNRR perché abbiamo bisogno di accelerare i tempi perché l'Europa ci dà i finanziamenti nella misura in cui questi progetti voglio dire si realizzano. Tutti i principali attori di questo importante cambiamento saranno messi al tavolo assieme agli operatori sanitari e alle istituzioni. Tra gli obiettivi più ambiziosi far sì che il governo centrale possa stanziare i fondi necessari per consentire all'Italia di raggiungere i livelli europei sul fronte appunto della sanità pubblica. Il ministro della sanità Schillaci è atteso per il 23 di novembre. Noi sosterremo con grande forza la proposta della regione toscana e di altre regioni che diventerà proposta di legge per invertire la tendenza. Cosa dice la proposta della regione toscana? In cinque anni dal 2023 al 2028 cerchiamo di raggiungere almeno la media di sistemi sanitari europei tenendo conto che un cittadino italiano per i propri bisogni di sanità e di assistenza ha assegnato dal Fondo Sanitario Nazionale 700 euro in meno rispetto alla media europea. Pensate a che cosa significa parificare anche in cinque anni il finanziamento del sistema sanitario italiano ripeto rispetto alla media del sistema sanitario europeo. Se non si fa questo ovviamente il nostro sistema soffre e corre il rischio di entrare in grave difficoltà. Ecco la voce forte che mi auguro e spero anche dal forum in aggiunta a tanti altri sedi dove si stanno mobilitando anche le persone, ci sono raccolte di firme in molte aree del paese e anche dal forum venga una voce forte per dire i soldi che necessitano per rinnovare e rilanciare il sistema sanitario nazionale.